Noi adesso verificheremo con attenzione i resoconti, probabilmente qualche ulteriore approfondimento faremo e siamo in contatto anche con altri organi importanti che stanno verificando se lo svolgimento del processo è stato uno svolgimento regolare, cercheremo di acquisire i dati, poi in base ai dati che acquisiremo decideremo come proseguire la nostra attività. Fare chiarezza è questo il compito della commissione bicamerale d'inchiesta che si sta occupando anche del caso Bussi e che ieri è stata a Pescara con tutti i suoi 14 componenti per effettuare prima un sopralluogo sulle discariche di Bussi poi alcune udizioni in prefettura Pescara. Davanti alla commissione presieduta dal deputato PD Alessandro Bratti sono sfilati i vertici della regione, le associazioni ambientaliste ma soprattutto i PM della procura di Pescara che hanno istruito il processo che si è chiuso lo scorso 19 dicembre in corte d'assisi a Chieti con l'assoluzione dei 19 imputati chiamati a rispondere del reato di avvelenamento delle acque e con la prescrizione del reato di disastro ambientale. L'audizione dei due magistrati Annarita Mantini e Giuseppe Bellelli è stata secretata nella parte in cui si è parlato proprio della sentenza del processo, finita nell'occhio del ciclone a seguito dell'inchiesta del Fatto Quotidiano su presunte pressioni sui giudici popolari. I PM pescaresi avrebbero definito quel processo anomalo e avrebbero consegnato su richiesta della stessa commissione il ricorso pendente in Cassazione. Sul fronte delle parti civili il WWF ha consegnato una memoria scritta incentrata sui ritardi e la farraginosità del meccanismo giudiziario messosi in moto a seguito dei sequestri della forestale che pose i sigilli alle discariche di Bussi nel marzo del 2007. Alla regione Abruzzo invece la commissione ha chiesto di riferire sulla bonifica dei siti inquinati e sul percorso di reindustrializzazione.